Tre rinvii importanti oggi in tribunale a causa dell'astenzione degli avvocati penalisti. A slittare nuovamente per la seconda volta il processo riguardante gli isolatori sismici di alcune aree del progetto case. Indagati in questo processo, Mauro Dolce, responsabile del procedimento del progetto case, Gian Michele Calvi, direttore dei lavori, e Agostino Marioni, dirigente di una delle ditte fornitrici. Sono usciti dall'indagine altre tre persone, Donatella Chiarotto, Bruno Michel Dupetti, Mauro Scaramuzza. L'inchiesta nacque in seguito ad una segnalazione fatta da una delle ditte escluse dall'appalto e ci furono inizialmente sei avvisi di garanzia. Successivamente, per chiarire i dubbi tramite un incidente probatorio, si decise di scegliere un perito al quale chiedere se e in che misura isolatori sismici fossero adeguati e rispondenti ai livelli di sicurezza. Il perito Alessandro De Stefano sostenne che alcuni isolatori, quelli dell'Alga, non sarebbero stati adeguati alle esigenze per cui sono imputati un dirigente di quella azienda mentre altri due che rischiano il processo e che sono coinvolti, per via del loro ruolo apicale, nella realizzazione del progetto case e nello specifico per il montaggio e la scelta degli isolatori sismici. Il perito, nella sua disamina, ha sostenuto che alcuni di questi isolatori non sono sicuri. Sempre questa mattina, nel Tribunale Provisorio di Bazzano, è stato rinviato il processo sul crollo di uno stabile di via Milonie. Imputato in questo processo, Berardino Drago, 78 anni di Pizzoli, che compare per il crollo del palazzo situato al Civico 31, di Angelo Sabatini, di 82 anni romano, coinvolto nel crollo dell'immobile al Civico 13, e di Nazareno Drago, titolare dell'impresa esecutrice delle opere, al quale vengono contestati una serie di reati legati alla quantità di staff presenti nei pilastri, la realizzazione di un piano seminterrato senza autorizzazione e la realizzazione di strutture portanti in assenza delle prove sui materiali. Non solo. Questa mattina si sarebbe dovuto svolgere anche il processo per il peculato a Giancarlo Santariga, ex provveditore interregionale alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, arrestato e messo ai domiciliari il 18 gennaio 2012, in relazione all'appalto per la realizzazione della sede della Guardia di Finanza a Pescara. L'accusa originale per il funzionario era quella di aver preteso delle auto, compresi il carburante della ditta che stava realizzando l'opera, da usare a scopi personali. In seguito la procura della Repubblica dell'Aquila ha cambiato l'imputazione in corso d'opera, ottenendo alla fine il rinvio a giudizio. Questo perché il principale testimone dell'imprenditore che stava realizzando la caserma, Agostino Bertoni, durante gli interrogatori ha escluso comportamenti ricattatori. Lo scorso ottobre Santariga è visto invece archiviata la sua posizione nell'indagine relativa all'appalto levitato da 3 a 15 milioni di euro per la ricostruzione della questura dell'Aquila. Le udienze sono state tutte rinviate e dunque si dovrà attendere il prossimo mese di ottobre per discuterle.